buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video di ping pong allora oggi grattiamo un monetino a 2 centesimi andiamo a scoprire il premio di oggi dai cosa ci spetta 50 euro interessante dai chissà chissà andiamo a vedere i simboli vai allora primo simbolo ok andiamo a vedere se l'abbiamo trovata questa farfalla via allora è uno e due e tre niente raga niente abbiamo la scarpetta niente scarpa vabbò dai al prossimo video e buona giornata a tutti ciao ciao